Grazie a tutti Sicuro che sto nel golf lead, adesso esce il risultato ufficiale, allora sto molto confidente Beh direi di sì, tre secondi, tre primi Ah sì, tre secondi molto bene, oggi vento molto forte, con molte ondas, molto chop Io già so da per esperienza perché ho gareggiato tanto con molta gente che sta qua Per il gruppo mio sta Adam e lui ha un passo molto fluido quando il vento è forte Io già lo so che quando vento forte devo soffrire un po' Devo soffrire un po' ma non è andata mica tanto male Tre secondi e domani il vento può essere un po' più leggero che lì ho il vantaggio Quello che mi fa molta confidenza è che quando il vento è leggero il stacco mio da loro è tanto Quando è vento forte, già avete visto come hanno finito dalle regatte oggi lì Collo con collo come diciamo noi uno sopra l'altro ma Bello, mi piace da gareggiare così Pure è bello che ogni atleta possa gareggiare nelle sue condizioni Allora è giusto per tutti Domani ti aspetta ancora vento abbastanza sostenuto, nessun problema? Nessun problema, sempre in campo, sempre positivo Sì, domani un'altra giornata Grazie mille Riccardo, a domani, alla prossima, grazie